Il sunto dell'intervento che ho fatto? Beh, insomma, ho cercato di porre delle riflessioni in merito a ciò che da anni si parla, e cioè sulla possibilità di riqualificare in modo equilibrato e sostenibile buone parti delle nostre città. Più che dare soluzioni, ho cercato di porre in essere alcune riflessioni, pensando che il nostro territorio e le nostre città partano da un abitativo, da una popolazione che negli anni si è più o meno stabilizzata e che molto probabilmente vedrà dei minimi incrementi e forse addirittura maggiori decrementi. Dal punto di vista abitativo, appunto, se questo è il paradigma su cui intervenire, su cui pensare delle riqualificazioni di grossi comparti urbani, qualche problema forse lo si pone, perché c'è stata una pianificazione in qualche modo pensata in momenti in cui un certo tipo di economia basata sull'edilizia poteva avere un ottimo e un buon riscontro. Oggi forse questi comparti che tendenzialmente vanno a liberarsi possono essere effettivamente un grosso problema per le nostre città. È evidente che ad oggi il pensare di riqualificare e rioccupare spazi industriali o militari dismessi soltanto con dell'abitativo, credo essere un elemento certamente da non prendersi in considerazione. Altro potrebbe essere restituzione di suolo a suolo o comunque ridefinire quegli spazi pubblici in modo più ordinato, in modo più fruibile dalla parte della città, della cittadinanza stessa. Quindi, concludendo l'intervento, forse più che un'opportunità potrebbe configurarsi come un problema reale, quello della riqualificazione urbana. Però la speranza, e comunque il dato positivo, è che il mettere insieme, il coordinare varie figure professionali e proporre alle amministrazioni dei progetti sostenibili, potremmo definirli usando un termine a chilometro zero, cioè a costo basso, potrebbe essere un modo per poter arrivare a ridefinire e a meglio utilizzare questi grossi comparti che oggi tendono a liberarsi.